Salve di cevoli e benvenuti in questo nuovo video! E' passato un po' di tempo e i peli del petto sono ricresciuti Quindi è tempo di tornare sulla sedia della tortura a farsi la ceretta Però oggi facciamo un video estremo Nell'altro video ho urrato veramente tanto Perché faceva veramente male, avevo veramente tanto tanto duro Ma questa volta ci sarà una penitenza A ogni urlo una cucchiarellata di mamma sul culo Oggi non posso più urlare perché già mi farà male la ceretta Poi ci si mette pure mamma là dietro con la cucchiarella Oggi in silenzio si fanno la ceretta e via con il video Siamo tornati! Io sto al sito, sono diventato più grosso Cioè quindi sono più pompato Quindi per voi ragazzi insomma contenetevi E' all'acqua Madonna sembra un orso Sei pronto? Madonna Indurisci Ezzo che pezzo Alza il braccio Così? Così Così Non ti conviene saltare la cucchiata ARDE 3 strappi già me stai senti male, sta pieno di rividio, faccia il braccio, fai il saluto ciao, oh brate ciao, fermo, 1, 2, e 3, non ho strillato, non ho strillato, che bello l'effetto cucchiarella, almeno non te sento, ma ma cosa fai a fare mia e fare un'altra volta il video, faccia il ceretto, a strillo come un'altra volta è bello, no, mettiamo il sparero ok, no, 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 no c'entrino ma per favore, no no, 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 no c'entrino, vai, 1, 2, 3... alzate, boi che stava giocavo, 2, tit oltre, ma questo è amounta ma questa è un po' de... c'è da poco su tutto hai detto tu io lo vedo un po' ma è in su questa allora allora questa si restringhi tre cucchiarellate ah ah vedi che minacce? che vedi che minacce se? questo non vale come strillo devo trovare una perdita devo trovare un altro sfogo per non rullare ma viene benissimo te credo c'ho i capelli che qua dobbiamo fare? no allora si viva la cucchiola no vabbè stavolta sei graziato perchè è stato uno strilletto ecco le porte queste porte anziate anziate come sono? bella te lo vedi che ti fanno a ste kind qualche volta facciamo un video che canto ma che canti? ma che canti eh adesso sette sette no un po' va male come la celetta, fermo, fermo mamma mia che stress ma senta la pagina, invece di romperla così aiutatemi, dai su, non mi sei sei pronto? andiamo, me l'ho scordato uno, due, tre erano sette sei sette, vabbè fanno tre te dici vabbè appari con una chiappa noi cambiamo chiappa attenta la barba e chi stai vanno a vendere? fermo mamma mia che stress te la faccio più eh vado all'estetista, voglio sentire quella se parli i bucugni non parcono eh almeno con quella devi sanzitare non parla via no no devi sanzitare e stai vado via alleluia alleluia fermo gatto per cristo perché me ne vado eh me ne vado, ti lascio così ecco ahhhh Federico ti lascio con la sede che è io quando mi chiamava Federico vedo affari ahhhhhh te le do tutte insieme no ma questa fai io la mano ti posso fermare se stai freddando la tua oddio aspetta adesso ti sta freddando ma del dopo te le do tutte insieme una 15 te le segui mi sento aia mi sento ma basta tutto rosso tutto rosso ma è finita la tortura non va bene non va bene direi che l'effetto è venuto ok c'è un pomodoro e adesso ci vediamo subito per l'altro spero tanto che questo video vi sia beccato anche oggi la tortura è finita e io mi sono divertita aspetta mamma devi da l'acconto di io sono una persona onesta ahhhh non è mi hai intonpito sono una persona onesta girati 3 eh 1 2 e 3 adesso ha fatto male eh se ve lo fa bella un bacetto noi ci vediamo in un prossimo video aspetta lo so che lo stai indetto ma ti devo dire prima una cosa se vuoi un altro video con mamma lascia like e scrivi hashtag volemo i video con tu madre non ti scordate di seguirmi su instagram al profilo Antoine sulla pagina facebook arriviamo a questi 10.000 like noi ci vediamo in un prossimo video bella di voi discepoli e mi raccomando fate i bravi ciao 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 ciao